Non capisco perché non è valido per me avere tutte le possibilità che una persona etero ha. Per avere una figura paterna e una figura materna è una tonteria. E avere due persone che ti vogliono, che ti occupano e che si preoccupano per te. E' chiaro, il Stato verbieto a noi, lesben, schmule, bi e trans, oltre se. E' una incredibile discriminazione. Non è speciale, non è diversa. È solo un giro che puoi protegere la sua famiglia, che puoi guardare la vostra figlia e la vostra figlia. Grazie a tutti.